Sono molto felice, il gruppo è la base di tutto e qua abbiamo dimostrato ancora una volta come in altre partite che chi subentra deve metterci del suo e è successo oggi, è successo in tutte le altre partite in cui sono subentrati altri ragazzi. Sì, effettivamente me l'ha confermato anche Stefano che è qua, io ho sentito proprio la voce di Andres che mi chiamava la palla e ho provato a metterli e l'è andata bene fortunatamente. Come stai Ale? Sto bene fisicamente, alla prima giornata solo sono stato fuori, per il resto sono sempre stato in panchina, ho teso il mio momento, oggi è arrivato e sono molto felice. Sinceramente era tanta voglia più che rabbia, la rabbia non porta a fare cose buone secondo me, la voglia di dare un contributo a questa squadra era tanta e oggi anche se per pochi minuti credo di averlo dimostrato e sono, ripeto, tanto felice per questo. Lo scorso è stata un'annata troppo brutta e troppo particolare che cerco di archiviare, vivermi il presente che mi vede comunque star bene fisicamente e attenderò il mio momento, non c'è mai stato problema star fuori, essere dentro, basta che quando uno entra poi in campo dà il proprio contributo. Era fondamentale perché poi adesso dalla prossima partita col Perugia ci dividono 15 giorni, al momento siamo in vetta, aspettiamo le partite di domani, però ecco era fondamentale anche perché quando non si gioca poi se vedi le altre che stanno sopra di te fa male e quindi è un bene aver vinto oggi, molto, molto, molto veramente. Credo che il ruolo dell'allenatore sia il più difficile, noi che giochiamo abbiamo poche cose a cui pensare, andiamo in campo e dobbiamo fare quello che ci cade il mister, l'allenatore deve badare a 30 persone quindi è un compito molto più difficile del nostro, per il resto penso che sì, quest'anno si respira un'area diversa, un'area più positiva e quindi credo che anche in campo poi si vedano i risultati e andiamo avanti così e portiamo avanti tutte quelle che sono le nostre forze per arrivare all'obiettivo.